Perfetto, ci sono Occhio di Pura Fibbre Italiana e in questo video parleremo del miglior straniero di Fortnite, salva il mondo! Ci tengo a precisare che nello scorso video tantissimi di voi mi hanno detto, cioè in uno degli scorsi video dove parlavo del miglior soldato Eh, ma non c'è un soldato migliore degli altri! Quindi anche in questo video ci sarà qualcuno che arriverà senza neanche guardare il video e scriverà Eh, ma non esiste uno straniero migliore degli altri! Allora ragazzi, ci sono vari stranieri, lo dico qui e ora, ci sono vari tipi di stranieri, io vi dirò il mio preferito e secondo me il migliore. In che senso il migliore? Il migliore nella sua categoria, per esempio il migliore a farmare oppure il migliore a fare questo o il migliore a fare questo Ci sono stranieri che si specializzano nell'utilizzo del teddy, quelli invece che corrono, cioè che hanno lo sprint un sacco, tipo che corrono e si teletrasportano un sacco Ci sono vari stranieri che si focalizzano in varie cose, io vi parlerò del più utile, secondo me, e spiegherò il perché Nonostante oggi non si sa perché io sembri abbastanza cadaverico, comunque andiamo ad analizzare gli stranieri del registro raccolta Tanti finti esperti di salva il mondo quando dicono Sicuramente se devo scegliere lo straniero migliore sarà sicuramente quello mitico Chiaramente questi qua non sanno un cazzo perché a volte l'eroe mitico è il più forte ma non sempre Come in questo caso, infatti, lo straniero più forte per lutare, perché di solito gli stranieri servono a lutare e non servono a combattere Servono a lutare gli stranieri, sono fatti apposta Non è sicuramente lo scout fasico È buono, non dico che faccia schifo, anzi è molto buono Così come l'apripista L'apripista è buonissimo perché ha un sacco di abilità che gli permettono di fare un sacco di danni col piccone e di avere un lama molto buono Comunque, nonostante lo scout fasico sia un buon straniero, così come l'apripista, non è sicuramente tra i miei preferiti O comunque tra quelli che io vi consiglio di craftarvi e o di potenziarvi Infatti, ci sono due stranieri fortissimi Uno è abbastanza inottenibile perché purtroppo è di un evento Di chi sto parlando? Di BattleGIS Ranger Allora, BattleGIS, purtroppo era dell'evento di Halloween Io l'ho ricevuto tramite l'ama a compleanno Però ormai non sono più disponibili Comunque è il miglior straniero per quanto riguarda le pistoline Se volete fare un sacco di danno con le pistole Lei potenzia i danni delle pistole in maniera allucinante Cioè li potenzia tantissimo Ma non è lo straniero di cui parleremo in questo video Quindi, attenzione, attenzione, udite, udite Lo straniero migliore non è Ragnarok, che è uno nuovo Non è assolutamente la pripista Nonostante, nonostante sia un buono straniero Oggi parleremo del nostro caro amato AC Percussore Infatti questo è il miglior straniero Io ce l'ho a livello 30 su 40 Però purtroppo ce l'ho a versione epica Devo renderlo dorato In ogni caso, ora andiamo a leggere le sue abilità E spiegheremo perché, cosa fa di lui il migliore Allora, incrementa dal 6% la probabilità di trovare un doppio bottino E fin qua, vabbè, insomma Quando cercate in giro per la mappa le varie risorse Avete il 6% di trovare un doppio bottino Carica antimateria Questo straniero si specializza nella carica antimateria Sfera un pugno che percorre un'unità Infligendo danni elevati a qualunque struttura Bla 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 E il pugno respinge nemici di piccole dimensioni Il pugno caricato, carica antimateria Può essere caricato tenendo premuto il comando di attivazione Per infliggere danni maggiori In pratica, questo straniero fa E tira un pugno Questo pugno spacca le cose Spaccando le cose ottenete anche le risorse Quindi se spaccate un masso con la carica antimateria Ottenete pietra Se spaccate una macchina ottenete metallo Chiaramente picconando la macchina Ci mettete 3-4 picconate Con la carica antimateria è istantaneo Quindi immaginate che con questo straniero Voi andate in giro per tutta la mappa A tirare pugna le cose Pugna le cose Quindi non a picconare Perché picconare si perde tempo Ma a tirare pugna le cose Distruggendole Quindi farmando un sacco di materiali Poi abbiamo il lama Il frammento di lama Il frammento di lama è un'abilità dello straniero Se lanciate diciamo Questo lama a terra Lo colpite col piccone Non potete colpirlo col pugno Per ottenere appunto le risorse Dovete colpirlo col piccone E sgancerà risorse Per questo straniero non è potentissimo Ci sono stranieri Che si specializzano di più nel lama Questo qua come vi ho spiegato Si specializza molto nel pugno Ed è per questo che secondo me è il più forte Dopo ve lo farò vedere in gameplay E vi spiegherò ancora meglio perché Poi abbiamo il teddy Il teddy è famosissimo Sgancia un robot Che per un ton di tempo Spara agli zombie È utile quando dovete conquistare un punto Dovete stare a difendere un punto Lanciate questo teddy Insomma vi difendete Abbatti costo Riduce di 10 punti energia Il costo di carica antimateria Quindi carica antimateria costa poco Riduce di 5 secondi Il tempo di recupero di carica antimateria Il tempo di recupero è il cooldown Capite che non potete usare un'abilità all'infinito Dovete aspettare un tot Con questa si riduce di 5 secondi il cooldown Il che riduce il cooldown di tantissimo Dopo vi spiegherò perché Sul pezzo sferra 5 colpi di piccone Per incrementare del 24% i danni dei picconi Quindi dopo 5 colpi di piccone di fila Se tenete il piccone in mano Finché tenete il piccone in mano Farete 24% di danni sempre in più Attacco strutturale Infliggendo danni a una struttura con la carica antimateria Si riceve 6 vigore Si riduce il tempo di recupero di 3 secondi Con carica antimateria Quindi in totale riduciamo il tempo di recupero di 8 secondi Cioè la utilizziamo e abbiamo ulteriormente ridotto il cooldown di 8 secondi Inoltre abbiamo anche la distanza aumentata di questo pugno Infatti aumenta di 1,5 Quindi da 1 si passa a 2,5 Che è quasi il triplo della distanza Pugno caricato Carica antimateria può essere caricata tenendo premuto il comando Insomma se tenete premuto lui carica il pugno e fa un sacco di danni Traslazione fisica famosissima degli stranieri Il teletrasporto Quindi voi state andando in una direzione Cliccate il tasto di teletrasporto e vi teletrasportate un po' più avanti Massimo 3 cariche Pugno di ferro incrementa di un ulteriore 150% i danni di carica antimateria contro i nemici Quindi anche contro i nemici il pugno fa tanto tanto danno E per finire aumenta l'impatto di carica antimateria di 100% E la rispinta in modo da essere efficace anche contro i nemici più grandi In pratica l'impatto e quindi il knockback del nemico avviene sempre Anche se i nemici sono grossi Ma bando a queste ciance dopo avervi illustrato le abilità diciamo di questo straniero Andiamo subito a testarlo in battaglia perché è la cosa migliore Ah chiaramente mi sono scordato di direvi che eroi utilizzare insieme a lui Allora il terzo non è importante è uno a caso Però per quanto riguarda il bonus squadra primario mi è suggesto a prepista Che incrementa il 24% in più i danni del piccone Quindi quando andiamo sul pezzo che noi di nostro incrementiamo del 24% In totale avremo un 48% dei danni del piccone in più Quindi molto molto buono Andiamo subito in missione senza perdere tempo in modo da fare vedere quanto si lutta Però prima di fare qualsiasi cosa vi faccio vedere il mio zaino Come vedete ho 500, 1780 e 1300 Quindi detto questo andiamo in mappa per farvi vedere quanto in fretta noi lutiamo con questo eroe Allora come vedete il piccone Il piccone fa 300 e passa di danno quindi veramente tanto tanto potente Io vi consiglio quando dovete lutare con gli stranieri di trovare due blab in giro per la mappa In modo da potenziare poi questo coso qua In modo da avere il bonus di velocità e quindi di essere ancora più veloce durante il loot Perché diciamocelo quando uno usa lo straniero di solito è solo per lutare Come vedete comunque quella era la carica diciamo del teletrasporto Allora adesso io prenderò questo blab e adesso vi faccio vedere l'utilizzo di carica antimateria Noi teniamo, pam, spacchiamo tutto In questo modo dopo un po' dobbiamo semplicemente lutare col piccone due secondi E andare alla prossima macchina Spaccarla, aspettare il cooldown che è di 5 secondi che veramente sono pochissimi E andare alla prossima macchina e così via Veramente tirate due picconate e di nuovo carica antimateria Spaccate un sacco di roba, fate un sacco di risorse Aspettate due secondi e andate avanti così a spaccare Cioè momento in momento ogni due secondi le robe Veramente è una cosa che vi permetterà di lutare velocemente Perché con altri eroi ora io avrei dovuto picconare tutte queste cose Invece con la carica antimateria del pugno Semplicemente pam E spacco tutto e ottengo un sacco di roba Sia risorse che chiaramente i materiali Chiaramente dipende da quello che serve a voi Insomma io vi consiglio di andare soprattutto in città Perché in città trovate un po' di tutto Sia alberi che pietre che soprattutto metallo E lì farmare come non so Perché veramente con questo eroe Veramente lo portate a livello 30 E vedete qua la velocità La velocità di ricarica di carica antimateria Appunto non faccio neanche in tempo a Ho premuto per sbaglio il robotino Non faccio neanche in tempo a picconare due volte Che già è libero Quindi velocità di movimento al massimo Molto utili chiaramente i teletrasporti Apposta per direzionarvi nella zona in cui dovete andare Anche il pugno comunque è una carica Quindi vi permette di andare più veloce Io appunto come vi ho detto prima Amo potenziare la velocità In modo da essere super veloce nei miei spostamenti E da non perdere neanche un secondo Perché ripeto ogni volta che uso questo straniero È apposta per riempirmi al massimo ogni risorsa Guardate qua Tiriamo qualche picconata anche se inutile E poi pam pugno Tiriamo qualche picconata anche se inutile Pam carica Tiriamo qualche picconata È così È facilissimo da usare questo coso Cioè e a parte che è facile È veramente veloce Perché appunto si tratta di lutare in maniera veloce Se fossi andato in una città Sicuramente avrei anche lutato anche prima Però è buono anche farsi parecchio legno Quindi Il commento ignorante di oggi è Straniero straniero da dove sei venuto E voi dovete fare il continuo della frase In modo che faccia rima in maniera divertente Anche oggi ringraziamo la puro più per te la nostra qua Grazie mille se vi siete iscritti Noi siamo già in 164.000 E cresciamo sempre di più Commentate con quello che ne pensate voi di questo straniero Se ce l'avete già Se già lo usate O che altri stranieri utilizzate voi Lasciate un piaccio se vi è piaciuto il video Condividetelo con i vostri amici Che giocano a Salva il Mondo E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao